Musica Abbiamo conosciuto Wallet.i a carte 2014 come una delle più interessanti start up nel mondo dei pagamenti. Sono passati 12 mesi, com'è andata? 12 mesi sicuramente interessanti innanzitutto perché siamo qui un'altra volta, perché alla fine abbiamo conosciuto alcuni clienti che ci hanno permesso di portare avanti una serie di progetti che oggi mostriamo ancora più fiduciosi. 12 mesi che sono serviti per capire anche questo mondo, un mondo dei pagamenti che sta cambiando radicalmente e sta cambiando un pochino anche le abitudini dei clienti. Oggi abbiamo alcuni clienti che si sono affidati a noi grazie proprio alla capacità di capire le necessità del cliente stesso e di risolvere quelle che sono le necessità del pagamento. Quali sono le novità che avete portato a Carte 2015? A Carte 2015 è sicuramente l'esplosione del contactless, quindi non potevamo non avere un terminale contactless, un terminale contactless che accetta sia carte di debito che carte di credito. Poi ha anche una piccola caratteristica comunque richiesta dal mercato che è il display retroilluminato. Altre soluzioni sono soluzioni che vanno sempre nel mondo verticale, quindi un mobile POS con la stampante, un mobile POS connesso con una stampante Bluetooth per applicazioni particolari su autoveicoli che ci permettono di differenziarci da quelli che sono i classici produttori di terminali. Ecco, quali sono le caratteristiche che differenziano la vostra offerta? La nostra offerta è sicuramente basata su caratteristiche importanti che i clienti chiedono. Il primo esempio è il multiconto, siamo ancora oggi l'unica soluzione presente multiconto sul mercato, quindi il cliente può decidere con lo stesso terminale dove andare a farsi accreditare i soldi. La seconda soluzione importante e caratteristica importante è invece il fatto della riconciliazione. Oggi come oggi sappiamo tutti che chi riceve tanti pagamenti sia poi la difficoltà di riconciliare, di verificare questi pagamenti. La soluzione Wallet P permette al merchant, sia grande che piccolo, di tenere sempre sotto controllo tutti gli incassi di tutti i pagamenti elettronici. Quali sono i principali progetti futuri su cui state lavorando? Noi ci siamo sempre mossi e differenziati in quello che è la verticalizzazione delle nostre soluzioni di pagamento. Nei progetti futuri, oltre a una maggiore integrazione, abbiamo anche tutto quello che è il mondo della multicanalità di accettazione del pagamento. Quindi non ci stiamo più limitando a solo mobile post, ma stiamo portando avanti anche soluzioni integrate con le commerce che permetteranno ai clienti di avere un canale in più di acquisizione dei propri pagamenti. Il 2016 sarà l'anno dell'affermazione definitiva di Wallet Team? Ce l'auguriamo, il 2016 sarà sicuramente un momento importante. Già il 2015 ci ha permesso di concretizzare alcune idee che avevamo con i clienti. Oggi siamo in grado di portarle avanti, abbiamo una piattaforma stabile, i clienti sono contenti e tutti ci riconoscono questa grande capacità di integrazione e di innovazione. Grazie. Grazie. Grazie.